Lo studio d'arte di Tiziano Donzelli sarà da sabato 20 a domenica 28 di agosto alla chiesa Sant'Arcangelo di Fano per mettere in mostra le loro opere. Diverse opere tra corsisti e lei, Tiziano Donzelli che è l'artista e il coordinatore di questo progetto, ci può spiegare in che cosa consiste? Lo studio d'arte di Tiziano Donzelli sarà in mostra a Fano sabato 20 alle 6 del pomeriggio con l'inaugurazione per portare in mostra le maioliche classic pesaresi, dalla Rosa di Pesaro alla Margherita al Raffaellisco Bianco, al Raffaellisco Blu. e quest'anno abbiamo una novità, porteremo in mostra questa tavolata di maioliche medievali, maioliche che sono del 1200 con l'utilizzo di due colori soli che erano l'ossido di rame e l'ossido di manganese, quindi un ossido verde e un ossido marrone particolare al tatto perché non è liscio ma sbolla poi in temperatura. Questo perché? Perché sarà una cosa interessante anche per quanto riguarda, oltre alle persone che lo verranno a vedere spero, anche per le proloco dei comuni limitrofi quali Gradara, Salleo, Mondavio, perché per le loro rievocazioni storiche medievali sarebbe una cosa interessante anche per poter portare in mostra. Oltre alle maioliche porterò in mostra dei dipinti a grosso formato, quest'anno il tema sarà un tema moderno e il tema dell'albero, quindi ci saranno queste tele molto colorate, alcune molto vivaci colorate, con dei colori complementari, che saranno proprio far cornice a queste maioliche nella parte centrale della chiesa per dare proprio lustro, ecco appenderò questi quadri diciamo alle pareti, per cui insomma ecco cerchiamo di unire questa arte che facciamo qui allo studio da me, pittura, olio, decorazione ceramica e disegno e la porteremo in mostra così alla chiesa Sant'Arcangelo. Ho dei corsisti che mi danno molta soddisfazione, sono con me da svariati anni per cui molti di loro sono anche veramente bravi e applicano queste loro tecniche per fare queste cose molto particolari e diciamo interessanti. Credo che per lei sia anche una soddisfazione vedere loro in questa mostra che ha organizzato lei. Sì sì, per me è un orgoglio partecipare e far vedere queste cose che facciamo, anche perché diciamo come scuola siamo rimasti, non ti dico da solo, ma siamo pochissimi, per cui ecco è bello anche rieducare le persone a questo percorso artigianale e artistico che ormai viene un po' lasciato così, viene un po' soppiantato da queste cose moderne o altre cose che vengono proposte. Però diciamo questa è una cosa che secondo me andrebbe un po' rivalutata ecco e quindi fatta conoscere perché poi è una cosa splendida.